ciao a tutti ragazzi bentornati con un nuovo video di gta 5 e gta 6 oggi volevo parlare di delle mappe che le metterò a confronto ora se ci riesco metterò tutte e due le mappe qui sullo schermo se no comunque la copertina di video sarà con tutte e due le mappe di gta 5 e gta 6 e gta 6 per queste indescrizioni che stanno girando non avrà una mappa personale ma prenderà tutte le mappe di tutti i gta da this city che era era strutturata degli anni ottanta era strutturata sugli anni ottanta nel gioco mentre ora su gta 6 sarà strutturata sui giorni nostri con diciamo miami sarà miami e poi ci sarà liberty city diciamo oltre allo santos un po a destra un po in alto ci saranno molte più città come appunto vi ho detto visa city liberty city tutte quelle di gta insomma di tutti i gta mentre su gta 5 c'era la mappa del gioco che era los santos e detto questo vorrei concludere con questo video è durato un poco ma avevo poche cose da dire un saluto a tutti lasciate like iscrivetevi e al prossimo contenuto ciao